Un altro motivo per cui la Bibbia insiste molto sulle genealogie è quasi sempre un motivo di legittimazione. Che cosa si intende dire per legittimazione? La legittimazione è strettamente collegata a un altro concetto, che è la continuità. È innanzitutto una questione di memoria. Tu sei quello che sei perché hai una storia che ti precede. Ecco, questo è vero sia a livello personale, individuale. Io sono quello che sono perché ho memoria del mio passato, perché so quali sono gli eventi che mi hanno condotto fino a qui. Ho dentro di me una ricostruzione, data appunto della mia memoria, degli episodi, delle pagine della mia esistenza che mi fanno vedere la mia vita come un racconto che mi porta fino a qui. Quindi il mio presente oggi è motivato anche nella sua concretezza, nella sua realtà, da tutto quello che mi è successo, che mi ha preceduto, che ha preceduto il mio essere qui e ora. Ed eccoci live, bella a tutti dal prof. Questa sera leggiamo insieme una pagina della Bibbia che normalmente, quando armati di buona volontà, ci decidiamo finalmente a leggerla e spesso saltiamo regolarmente. Perché soltanto gli spiriti più pazienti e volenterosi hanno il coraggio di affrontare i capitoli come questi. E non perché siano difficili in sé, ma proprio perché per noi possono non avere proprio nessun significato. Mi riferisco alla lunga genealogia che ci è proposta da Genesi al capitolo 36. Se, come vi ho consigliato di fare, avete già almeno una volta letto di seguito tutto Genesi, sarete sicuramente inciampati in questo capitolo. Noi, impavidi e volenterosi, anche se per un attimo ho avuto la tentazione di esaltarlo, lo leggeremo comunque. Ed eccolo qua. Leggiamo la genealogia di Esau. Armiamoci di buona volontà. Capite che vi anticipo subito, vi faccio subito spoiler di quello che volevo dirvi questa sera. In realtà, quello che ha poco significato per noi non significa che non abbia significato in assoluto. Perché a volte, insomma, il nostro modo di dire le cose è limitato, non siamo infallibili. Queste genealogie, in realtà, sono molto importanti per la Bibbia, per la comprensione della scrittura, ma sono anche molto importanti per noi oggi. E adesso, insomma, cercherò un po' di suggerirvi il perché. Questi sono i capi di Edom, secondo le loro sedi nel territorio di loro proprietà. E questi, Esau, il padre degli Edomiti. E qui si conclude il capitolo 36. Forse dovremmo anche includere il primo versetto del capitolo 37. Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero. Nella terra di Canan, perché poi vedremo che è proprio questo versetto che apre il racconto di Giuseppe. Allora, ma perché la Bibbia inserisce questo racconto proprio, diciamo, racconto? In realtà questo non è un racconto, questo è, per noi, anche oggettivamente, è un lungo e noioso elenco di nomi, di nomi per noi quasi impronunciabili, che fanno riferimento ogni tanto, si apre una finestra, a eventi per noi sconosciuti, incomprensibili, e a loro non si domanda, ma allora che ci stanno a fare queste pagine nella Bibbia? Allora, come sempre, noi dobbiamo fare un'operazione doppia, cioè la prima cosa è cercare di comprendere, ma, insomma, questa genealogia a che cosa serviva? Perché gli autori hanno messo questo testo nella Bibbia? A che cosa ci possono servire tutte queste informazioni, che poi, ovviamente, nessuno di noi riesce a collocare, a contestualizzare, né nello spazio né nel tempo? Proprio perché suppone, questa pagina, che un po' questi nomi e qualche cosa suscitino, un ricordo, un riferimento. E che dire, cioè, se tra duemila anni, tremila anni, qualcuno scoprisse, non so, una nostra lista della spesa, o i registri del condominio, e trovasse un elenco di nomi, e chiaramente anche gli appunti messi dall'amministratore, questo tizio di pagare il riscaldamento, magari tra tremila anni si domanderanno, ma che cos'è il gasolio, cos'è il riscaldamento, ma chissà. Quindi, ecco, di nuovo qui siamo di fronte al fatto evidente che la Bibbia non è parola solo esclusivamente divina, e questo ce lo siamo detto tante volte. Cioè, il messaggio divino dov'è in questa pagina? Allora, di nuovo, dobbiamo ricordarci che non è la singola pagina o il singolo versetto della Bibbia che contiene la rivelazione. Cioè, se io la Bibbia la spezzo, la scompongo, la separo, la divido, l'analizzo, non sarà il singolo significato della singola frase fuori o anche dentro il suo contesto a farmi toccare la rivelazione divina. Cioè, quando noi parliamo di rivelazione divina, soprattutto se siamo cristiani, e qui, chiaramente, se ci fosse un rabbino al posto mio potrebbe anche obiettare o fare un'osservazione diversa. Ma come cristiano, ogni pagina della Bibbia è, in un modo o nell'altro, rivelazione del mistero di Cristo. Cioè, ogni riga della Bibbia, per me, ha senso, in funzione, in collegamento e alla luce di una chiave di interpretazione che è Cristo stesso. Ne parlavamo anche questi termini, più o meno, nel nostro confronto, se non vi siete persi, andrà a vedere, con Vittorio Secco sul patriarcato nella Bibbia, dove, insomma, è anche un po' evidente un atteggiamento, una mentalità asimmetrica riguardo alle questioni di genere. Non c'è nessun dubbio che, nel mondo antico, fino in realtà, non molto tempo fa, questo non era un paese per donne, nel senso che c'era un altro modo di concepire il valore della donna e del femminile nella società, anche dal punto di vista giuridico. Ma ci siamo detti, appunto, che è chiaro che questi sono messaggi per noi inaccettabili, anche se qui, in questa pagina, abbiamo, se volete, avviene qualcosa di diverso. Non siamo di fronte a una pagina inaccettabile da un punto di vista di contenuti. Siamo proprio di fronte a una pagina che sembra non dirci nulla. Ecco, questo tipo di pagine che urtano la nostra sensibilità, le nostre attese, il nostro desiderio di informazione, che ci sembrano inutili, e vanno, prima di tutto, contestualizzate. E poi, se c'è un significato, diciamo, universale, spirituale, questo va visto collocando queste pagine come parte di un tutto. Se volete, di un ingranaggio, se volete, forse ancora meglio, perché l'idea del meccanismo potrebbe essere limitante. Cioè, immaginiamo, allora, veramente la Bibbia come un corpo, come un corpo vivo, no? Quindi, in un corpo vivo, ci sono parti che sono essenziali alla vita, altre meno. Parti che, senza le quali, si può continuare a vivere, ma meno mati. E invece sono parti vitali, assolutamente, diciamo, insostituibili, no? Eppure, in ogni corpo vivo, no? Ogni elemento, ogni più piccolo elemento, persino all'interno della cellula, ogni singolo gene, ha un suo valore, ha un suo valore fondamentale. Allora, cerchiamo di pensare di questa pagina della Bibbia come parte di un corpo vivo, che è il canone biblico, che per noi è rivelazione. E cioè, se dovessimo proprio, diciamo, fare un discorso analitico, qual è il motivo per cui esistono genealogie nella Bibbia? E allora, prima di tutto, parlando proprio di questa pagina, siamo in Libro di Genesi. Ricordate che uno dei primi motivi per i quali tornano in Genesi delle genealogie è un motivo organizzativo, un motivo di strutturazione del testo. E cioè, se oggi prendete un libro che ha una certa estensione, è necessario, per facilitare la lettura, ma anche mentalmente, per poter afferrare la comprensione di un testo, dividerlo in capitoli. Quindi avere un indice in cui si possono indicare delle parti molto precise. Questo avviene nei libri, nei saggi, ma avviene anche, insomma, nei libri di narrativa. Ogni libro, ogni racconto, è diviso in capitoli. Ecco, Genesi è diviso per genealogie. Ogni genealogia, che in ebraico si dice Toledot, indica l'inizio di una nuova sezione del libro di Genesi. Questo capitolo 36 indica proprio, esplicitamente, l'inizio della sezione del racconto della storia di Giuseppe. È l'ultima Toledot, quella forse più estesa, perché il racconto di Giuseppe, come vedremo, è uno dei racconti più estesi. È un modo per organizzare la narrazione, per aprire, appunto, un nuovo capitolo. in questa storia straordinaria che colloca il popolo di Israele all'interno dell'universo intero, del cielo e della terra, dal cielo alla terra fino a Israele in terra d'Egitto. Preparazione, poi, appunto, al ritorno in questa terra. Quindi, un significato organizzativo. Un altro motivo per cui la Bibbia insiste molto sulle genealogie è quasi sempre un motivo di legittimazione. Che cosa si intende dire per legittimazione? La legittimazione è strettamente collegata a un altro concetto che è la continuità. È, innanzitutto, una questione di memoria. Tu sei quello che sei perché hai una storia che ti precede. Ecco, questo è vero sia a livello personale e individuale. Io sono quello che sono perché ho memoria del mio passato, perché so quali sono gli eventi che mi hanno condotto fino a qui. Ho dentro di me una ricostruzione data appunto dalla mia memoria degli episodi, delle pagine della mia esistenza che mi fanno vedere la mia vita come un racconto che mi porta fino a qui. Quindi il mio presente oggi è motivato anche nella sua concretezza, nella sua realtà, da tutto quello che mi è successo, che mi ha preceduto, che ha preceduto il mio essere qui e ora. Questo è valido per la Bibbia, per i popoli antichi. In una certa misura anche, credo sia ancora valido se ci riflettiamo, anche a livello sociale, a livello storico. La nostra identità non è soltanto segnata dalla nostra memoria personale, ma anche in gran parte segnata dalla nostra memoria culturale, dalla nostra appartenenza a una comunità, a una società che condivide lingue, condivide valori, condivide esperienze, condivide un modo di vedere se stessa e di vedere il mondo. Perché se non si condivide nulla, se non si è parte di nulla, se non si ricorda nulla, allora si è veramente poveri, si è veramente isolati, si è veramente, diciamo, negati alla radice. Uno dei problemi, se volete, dell'oggi, della scuola di oggi, è quello che forse le nuove generazioni stanno vivendo troppo il presente. Non che sia un male vivere nel presente. In certi contesti è la cosa giusta da fare, anzi, è la cosa indispensabile per vivere. Quando attraverso la strada devi vivere il presente, quando guido la macchina, devo vivere il presente, quando mi assumo la responsabilità della vita devo vivere il presente. Ma vivere solo il presente, dimenticando il passato, ci fa dimenticare il viaggio che abbiamo fatto per arrivare fino qui e ci fa dimenticare quindi anche la destinazione di questo viaggio. Quando un israelita, quando un ebreo leggeva Genesi, diventava consapevole del fatto che la sua vita era un elemento di un lungo viaggio che partiva dalla remota creazione del cielo e della terra e si collocava in questo movimento che era il viaggio di Abramo che partiva appunto da Ur dei Caldei e arrivava fino a lui, alla sua condizione. E quindi sapeva che questo viaggio non era ancora terminato, doveva continuare e quindi in questa continuazione lui trovava incoraggiamento. E nello specifico, l'ebreo che tornava a vivere da Babilonia doveva ricostruire la sua esistenza e quindi doveva avere delle certezze, ma per avere delle certezze su cui fondare con fede, con fiducia il suo futuro, doveva sentirsi parte di un passato, appropriarsi di radici, legittimare il suo agire. Ecco, perché tornare alla terra promessa? Perché questa terra dovrebbe appartenermi? Perché questa benedizione? Perché dovrei fare tutta questa fatica, questo sforzo, questa lotta per costruire qui la mia famiglia, per ritrovare qui la mia tribù, per coltivare questi campi, per arrivare questi animali, perché? Per difendere questa mia terra se necessario, perché dovrei farlo? Ecco, la motivazione all'esistere, la motivazione a lottare, anche in senso pacifico, ma come sapete, anche quando c'è pace bisogna sempre lottare per sopravvivere. Ecco, tutto questo, no? Qual è la sorgente spirituale, morale del mio agire? Perché lo faccio? Convivere soltanto il presente, quindi soltanto essere soltanto nelle gratificazioni del momento e quindi dimenticare lo slancio verso il futuro, quindi il rimandare la gratificazione, ci impoverisce, ci azzera, ma per poter slanciare in avanti il mio sguardo, per poter credere nel futuro, perché non dimentichiamoci che la fede di Abramo era fede in un Dio che gli prometteva un futuro, quindi era fede in un futuro, non in un futuro in un'altra vita, questo è fondamentale, anche se poi nella Bibbia si evolve questo concetto di questo futuro che tocca l'eternità di Dio fino all'altra vita, ma ci sono varie fasi di questo pensiero, ma questo proiettarsi in avanti, che è la fede, proiettarsi nell'incertezza, avventurarsi nell'ignoto, come si fa a fare se io non ho un passato, se non ho una sicurezza sulla quale fondare le mie radici e non ho anche un modo di collocare il mondo intorno a me in questo passato. La mia identità nasce nel confronto con altre identità. Questo è verissimo per esempio a livello psicologico, il bambino sviluppa un senso dell'Io, un'autocoscienza di sé, ce lo dicono i grandi psicologi anche del Novecento, proprio perché interagisce con i suoi genitori, interagisce con gli altri umani e quindi interagisce col mondo e quindi impara a distinguere il confine che c'è tra me e l'altro, impara a essere se stesso perché vede il mondo diverso da sé. Allora, anche il vedere gli altri popoli, anche il considerare le altre nazioni, quindi non soltanto la propria, e collogarle in questa storia per un ebraio importante, perché questo appunto dava valore a ciò che faceva in quel momento. Quindi questa legittimazione, questa continuità di cui abbiamo parlato, cercano riferimento a figure antiche, ancestrali, appunto, Abramo in particolare, ma anche Giacobbe e appunto Esau, in quanto discendenti di Abramo. Cioè, il mio status, i miei diritti, ma anche le mie speranze, i miei desideri, i miei possessi di questo momento, hanno valore perché appunto c'è un passato che dalle quali ho ricevuto, sono discendenza di qualcuno, sono la continuazione di qualcosa. La mia presenza oggi incarna una realtà che ha radici lontane. Ecco, senza radici non c'è futuro. Questo è il senso anche della genealogia. Un collegamento con il passato per trovare nel passato legittimazione, per trovare nel presente una continuità col passato. Un terzo motivo è quello teologico, cioè le genealogie nella Bibbia hanno anche un significato teologico. Non dimentichiamo, gli autori biblici vogliono mettere l'esistenza dell'israelita, dell'epreo, del lettore, dell'uditore della Bibbia in relazione all'unico Dio, al nome, al nome che nessuno può pronunciare. E le genealogie che si susseguono a partire da Adamo stabiliscono una continuità con, appunto, l'uomo che viene da Dio, che viene chiamato da Dio, prima all'esistenza e poi alla terra promessa. Quindi, in questo mio essere parte di una discendenza, in questo vedere gli altri a loro volta, gli altri, perché gli edomiti di cui si parla sono gli altri, non sono gli ebrei, cioè non sono io, è il mio vicino, è il mio straniero, a volte è anche il mio nemico, ma anche lui ha delle radici, e delle radici che sono le mie stesse radici, questo è fondamentale. Questa è la grande scoperta del libro di Genesi, che come vi ho detto più volte, nella sua radice è un libro volutamente pacifista, volutamente universalista, volutamente antisovranista, perché nonostante sia fatto per la ricostruzione di un popolo, legittima e radica tutti i popoli nell'origine dell'unico Dio, nell'origine dell'unica famiglia umana. Siamo tutti parenti, siamo anche tutti figli di Dio. Questa è una verità del libro di Genesi, è un valore del libro di Genesi che viene custodito e viene rintracciato, viene evidenziato attraverso il collegamento della genealogia, che appunto diventa un simbolo. Adamo è stato creato da Dio, quindi io sono stato creato da Dio. Adamo è il mio progenitore, è il progenitore di Abramo, Abramo è il progenitore anche del mio nemico, con cui faccio commerci, con cui a volte sono costretto a convivere, con cui a volte ho un rapporto conflittuale, con cui a volte faccio la guerra, ma anche lui è un essere umano, cioè non è, non è mai disprezzato. Nella Bibbia non si demonizza mai nessuno, non si riduce mai l'avversario a livello di un animale e questo è un valore appunto importante anche da un punto di vista simbolico. la creazione del mondo, la creazione dell'uomo, la benedizione divina in Abramo appunto si estende a tutti i popoli. Il quarto motivo per cui nella Bibbia troviamo genealogie e per la quale è giusto anche sopportare questo susseguirsi di nomi per noi senza senso è l'identità culturale, il discorso dell'identità, un discorso un po' fuori moda che può suonare anche a un discorso un po' di destra, ma in realtà è un discorso reale, cioè io posso apprezzare la varietà e la diversità delle culture proprio perché ho una mia identità. L'identità culturale equivale a riconoscimento del valore dell'identità personale. È un po' ama il prossimo tuo come te stesso, però visto a livello sociale. Se io non amo e non apprezzo ciò che sono da un punto di vista sociale, se non amo in qualche modo con tutti i suoi limiti, esemplifico questa benedetta civiltà occidentale, no, ma cerco sempre di darci contro, ma a che cosa mi resta? Quindi la memoria storica e l'identità, soprattutto poi in una civiltà dove la storia non veniva trasmessa dai telegiornali, dai libri o da internet, ma veniva letteralmente trasmessa come la fiaccola della vita, di generazione in generazione. Cioè la cultura fondamentale me la facevo in famiglia, me la facevo in famiglia non intendo soltanto papà e mamma, intendevo proprio tutto il clan, come a volte dovremmo ricordare. Ecco, questo clan è riunito intorno al fuoco si comunicano le storie del passato, le storie del passato sono legate a persone, cioè ogni nome della Bibbia che per noi non ha senso è un nome, una storia, una vita vissuta che non è molto diversa dalla tua, quindi un nome per quanto ci possa sembrare, non so, prendiamo una a caso, Elifaz, figlio di Ada, è una vita umana, un essere umano che ha avuto la sua storia, ha avuto le sofferenze, ha avuto i suoi amori, ha avuto i suoi dolori, le sue malattie, le sue bene, le sue preoccupazioni, però anche lui è stato parte di questa storia, cioè ogni uomo, ogni essere umano è parte di questa storia, una storia che appunto definisce anche me, definisce me, se io sono un discendente di re, collego a Giacobbe, definisce l'altro e quindi di riflesso anche me, perché appunto io mi definisco in rapporto all'altro. E poi c'è la politica, questo è anche un fatto importante, quando gli scrittori, gli scrivi appunto stilavano queste pagine, questi nomi erano nomi di attualità, erano nomi di attualità, ci può sembrare strano, ma erano nomi storici, nomi di località, poi nomi di famiglie, di clan, di tribù, quindi ogni nome, non era soltanto un individuo, ma era anche un clan intero, è un clan con il quale si entrava in contatto e quindi si doveva far politica, bisognava badare alle relazioni oggi diciamo internazionali. Nell'antichità però non c'era il concetto di nazione come oggi, quindi in realtà erano proprio contrasti, conflitti, alleanze, commerci tra vari clan, tra varie nazioni, ma non nel senso moderno del termine. E questo anche, il considerare, il collocare questo è discendente di questo, e in quella terra e vive in quella zona, in quella porzione della Palestina, perché questa è la sua storia, serviva a dare proprio un'impronta alla relazione politica, cioè come oggi, per capirci, vogliamo essere informati dei fatti internazionali, dobbiamo leggere, informarci di geopolitica, se vogliono considerare, parlare a un tavolo di trattative con un russo, deve conoscere la sua storia e il suo passato, così le genealogie collocavano popoli diversi in contesti diversi e stabilivano appunto un gioco di relazioni politiche. Tra l'altro, nel caso del capitolo 36, se ci avete fatto caso, si dice più volte che Esau si stabilì sulle montagne di Seir. Quando si dice Esau, più volte il capitolo 36 ripete continuamente Esau, cioè Edom, Edom e Esau coincidono, quindi Esau è l'individuo patriarca di Isacco, ma di fatto politicamente si tratta di Edom, quindi di un popolo intero, e questo Edom dove abita? Nella regione di Seir. Ricordate quando Giacobbe tornava da Aranna tornava e andava incontro al fratello e il fratello si dice veniva dalla regione di Seir. Questa pagina è come se volesse giustificare, riprendere questa collocazione che suonava agli orecchi di chi ascoltava la prima volta questa pagina come una chiara anche area geopolitica, la regione dove abitano gli Edomiti. E infine, insomma, ci sono significati che possono anche essere simbolici, per esempio il numero, anche se non vi saprei dire in questo caso, però questo è evidente per esempio nelle genealogie dei Vangeli, il numero delle successioni e delle genealogie hanno anche un significato simbolico per collegare appunto il Cristo al passato e quindi alla promessa, alla benedizione. E questo è in generale. Per quanto riguarda diciamo il capitolo di Genesi in particolare, cioè questo capitolo 36, su questa pagina in particolare Esau e Giacobbe rappresentano due linee diverse, e stranamente si parlerà adesso di Giacobbe e soprattutto dei figli di Giacobbe perché la storia adesso sarà incentrata tutta sui figli di Giacobbe ma come se la Bibbia qui avesse bisogno di sbrigare la pratica anche con Esau e con i figli di Esau quasi a stabilire una distinzione. Ecco, Esau ha ricevuto una benedizione che era la stessa che veniva da Isacco figlio di Abramo non dimentichiamo quello a cui Dio ha promesso che in lui si saranno dette benedette tutte le nazioni della terra e quindi c'è un debito diciamo degli autori biblici verso Esau Esau che comunque riceve una promessa il mostrare la prosperità e la genealogia di Esau serve agli autori della Bibbia per dice che questa benedizione ha funzionato ha funzionato benissimo con Esau adesso scopriremo come funziona anche per Giacobbe e per i figli di Giacobbe soltanto che dove c'è benedizione dove c'è predilezione divina sembra che le cose per qualche motivo si complichino sempre infatti vedremo che questi fratelli tra di loro avranno un rapporto molto difficile addirittura cercheranno di uccidere uno dei loro fratelli insomma questi erano benedetti nel senso che hanno ricevuto la stessa benedizione di Abramo gli altri anche sono stati benedetti nel senso che hanno ricevuto la benedizione anche se di colore diverso di colore rossastro come il colore del pelo del capello diciamo di Esau questa benedizione diversa ha avuto efficacia Esau ha prosperato si è moltiplicato è diventato una nazione addirittura insomma hanno avuto problemi di convivenza tanto che questa ricchezza è aumentata come è successo vi ricordate tra Abramo e Lotto che sono dovuti separarsi a un certo punto si dice quindi sono diffusi in territori diversi e allora che cosa succede adesso a Giacobbe la sua discendenza no? come dire per Esau ha funzionato la benedizione per Giacobbe quindi il fatto di parlare di Esau ci prepara proprio ci attende proprio a mettere in evidenza il contrasto con Giacobbe abbiamo già detto che questa e più volte insomma il testo lo dice che questa narrazione fornisce un contesto fondativo anche a Edom che avrà delle relazioni con Israele nel futuro relazioni problematiche quando gli israeliti torneranno dall'Egitto cercheranno di passare come scorciatoia per il paese di Edom gli Edomiti non li lasciano passare quando Israele tornerà da Babilonia per ricostruire ciò racconta il libro di Nemia cercherà di costruire il Tempio e allora lì ci saranno gli Edomiti che protesteranno contro la ricostruzione del Tempio quindi ci sono sempre gli Edomiti che forniscono da ostacolo ecco questa pagina fornisce un contesto diciamo geopolitico di queste relazioni c'è un motivo anche teologico la benedizione comunque funziona la discendenza va avanti nonostante se volete anche le scelte sbagliate di Esau ricordate che comunque Esau la sua scelta sbagliata la fa le famose lenticchie al posto della discendenza che è perché Esau disprezza la promessa futura in funzione di una realizzazione presente c'è un motivo anche letterario questa genealogia perché serve a completare il racconto quindi a esplorare fino in fondo come ogni personaggio mette in evidenza fino in fondo come ogni personaggio in realtà sia importante è come se venisse riconosciuto di Esau lo status di famiglia reale anche oggi quando si fanno le crone di gossip sulle famiglie reali ogni ramo ogni tanto di ogni famiglia reale si va a esplorare ma con chi si è messo chi si è sposato qual è stata la sua storia e un po' fa la stessa cosa anche Genesi con Esau Esau è comunque un principe figlio discendente di Abramo quindi va comunque la sua vita la sua discendenza va comunque considerata in fondo c'è anche un altro elemento che va preso in considerazione per quanto riguarda questa pagina che ci sono promesse divine diverse Esau e Giacobbe e Dio le mantiene tutte e due questo l'abbiamo già detto però c'è anche una riflessione sottostante sull'importanza delle relazioni familiari si ha quasi il sospetto che su Esau forse si poteva dire di più ci sono accenni a come questi fratelli si comportano tra di loro come hanno contrasti cioè addirittura è come se la Bibbia ci suggerisce guardate gli scrivi antichi avrebbero potuto anche raccontarci molto di più su Esau e sulle sue vicende ma non lo fanno perché vogliamo interessarci appunto della discendenza di Giacobbe però al centro c'è sempre appunto la famiglia il fatto insomma che esseri umani discendano da altri esseri umani e che in queste generologie non manchino mai appunto anche le donne le mogli molto più che nelle generazioni per esempio del Vangelo del Nuovo Testamento dove appunto si fa ogni tanto riferimento a qualche donna però qui non vengono menzionate esplicitamente le varie moglie concubine di Esau ma tutto questo è come se appunto avesse questo sottotesto cioè tutto si svolge all'interno di relazioni umane e questo non va dimenticato perché in fondo la storia di Genesi è anche se volete una soppopera nel senso proprio che affronta scusate l'accostamento che per alcuni può sembrare indelicato ma mi riferisco proprio al tono narrativo come l'abbiamo già detto mentre l'Iria dell'Odissea ci raccontano grandi avventure di eroi sui mari e sui campi di battaglia e il libro di Genesi si svolge molto spesso nelle tende nell'intimità tra uomo e donna nei conflitti tra le donne nei conflitti appunto tra i pastori tutto questo rimanda non tanto un mondo semplice perché comunque semplice non era neanche quel mondo no? abbiamo visto che c'erano anche lì quelle battaglie caristie qualunque cosa possibile possa complicare la vita ma soprattutto abbiamo un'attenzione dedicata alle relazioni familiari le relazioni tra membri di una famiglia insomma qual è il messaggio di questa pagina? il messaggio fondamentale è soprattutto la sovranità di Dio cioè come Dio è il centro la radice l'animatore di tutta la storia umana e questo Dio nascosto il Dio senza nome è comunque quel Dio appunto che mantiene le sue promesse che dà impulso che ispira che genera che benedice tutta l'esistenza umana è possibile proprio perché c'è a monte la volontà e la potenza di questo Dio che afferma se stesso nei suoi piani ha un destino un destino non nel senso che viene diciamo obbligato nel suo svolgersi ma che viene predeterminato nella sua provvidenza questa vocazione ricordate che la traduzione esatta della parola destino in senso religioso è vocazione cioè Dio chiama a qualcosa quindi ci dà un senso una destinazione questa destinazione Dio la può realizzare e mantenere con potenza e Dio realizza il piano divino in tanti modi e in tante direzioni quindi è come veramente il piano divino come un fiume che si espande in tanti rivoli diversi come sul delta un fiume che sfocia sul delta e quindi anche prima di sfociare al mare prima di tornare a Dio quindi abbiamo l'affermazione del valore non soltanto di Israele ma anche del piano divino che si realizza in tutti i popoli in ogni individuo e anche in ogni gruppo gruppo etnico in ogni società quindi c'è una visione più ampia profonda della storia della salvezza della redenzione del bene cioè Dio vuole bene agli esseri umani a tutti anche a quelli che appunto non lo riconoscono non lo amano oppure non si sono manco accorti che esista questo non toglie la responsabilità degli umani che sono comunque chiamati a rispondere a questo Dio però nello stesso tempo ci dice come tutto parta da grazia benevolenza e misericordia di un Dio che comunque dona senza volere all'inizio niente in cambio e in particolare la storia di Israele alla quale viene chiesto un patto ma a tutti gli altri popoli ecco Dio comunque si dona e questo rivela qualcosa di profondo sull'identità appunto di questo Dio e anche questa pagina quindi ci rivela qualcosa della bontà della potenza della giustizia della tenerezza di Dio e ho parlato abbastanza